La fede sposta davvero le montagne dell'indifferenza e dell'apatia, del desinteresse e dello sterile ripiegamento su dei stessi. La fede apre la porta della carità facendoci desiderare di imitare Gesù, ci incita al bene fornendoci il coraggio per agire sull'esempio del buon samaritano. Ai membri della comunità Papa Giovanni XXIII, il Pontefice ha chiesto di non abbattersi davanti alla schiavitù del male, davanti alle tante forme di povertà di cui purtroppo è ferito il nostro mondo, davanti all'egoismo di quanti pensano di costruirsi l'esistenza sfruttando gli altri. In aula Paolo VI Papa Francesco ha precisato che la miseria più pericolosa è la lontananza da Dio, la presunzione di poter fare a meno di Lui, mentre la presenza del Signore può metterci in grado di compiere opere buone e di trarne una gioia intima, capace di irradiarsi anche su quelli che ci stanno vicino. Di qui l'invito a seguire sempre l'esempio del fondatore dell'associazione, Dono Reste Benzi, radicato nell'amore a Gesù Cristo con il suo amore per i piccoli e i poveri. La provvidenza vi ha fatto crescere e ha concluso provando la vitalità del carisma del fondatore, il quale amava ripetere che per stare in piedi bisogna stare in ginocchio.